Qui, esattamente in questa piazza, si è svolto quell'incontro che il governatore Emiliano conferma. Nella piazza dove oggi c'è un presidio della polizia, ma dove vent'anni fa, invece, Emiliano bussò alla porta della sorella del clan Capriati. Senza De Caro, dice dopo la smentita del sindaco. Se non ricorda, può essere che sia così. Fatto sta che sono queste le strade dove il clan Capriati oggi ancora vive, ma che non vuole più dir nulla. Troppo clamore, troppo polverone, ciò che vogliono è che di loro non si parli più, ma quella conferma di quell'episodio fa divampare sempre più la polemica. Emiliano conferma di essere andato dalla sorella del boss senza denunciare l'accaduto alla procura, una situazione gravissima degenerata per il centrodestra e che ora potrebbe finire con una convocazione urgente della commissione antimafia.